Siamo ad una trentina di chilometri da Firenze, e più precisamente nel Mugello. E questa è la mia azienda, l'azienda agricola Mezzastrada. L'azienda è composta da circa 150 capi di razza frisona con una piccola percentuale di vacche meticce. Siamo in due, io e mio nipote. Io mi occupo prevalentemente di tutta l'organizzazione e della stalla. Il mio nipote è dei campi. Abbiamo scelto Smartbook perché oltre a Calori mi rileva la ruminazione, quindi la sanità dell'animale, e anche la posizione che aiuta molto. L'utilizzo del sistema viene principalmente fatto da me, ma anche da mio nipote, perché è un sistema di facile lettura e comprensione. Non è che ci vuole la scuola di un anno per capire come funziona. In termini di una settimana, dieci giorni, sei già a regime. E anche il sistema si è già settato per bene sulla tua azienda. Prima di montare Smartbook avevo i miei genitori che mi davano una mano, quindi quando tornavo dalla campagna o da altre cose mi dicevano l'animale è in calore, l'animale non sta bene, eccetera. Adesso che loro ci sono, però non svolgono più attività, mi affido totalmente a Smartbook. Prima di montare Smartbook dovevamo stare fisicamente in stalla per il rilevamento dei calori. Si vedevano le vacche saltare e così si riconoscevano, però venivano persi tutti quelli della notte. Per trovare una vacca mi ci volevano circa 5-10 minuti. Adesso con uno scarto di un paio di metri la trovo immediatamente. L'applicazione all'interno del sistema che mi ha permesso di cambiare più il mio modo di lavorare, vedendo degli ottimi risultati, è la rilevazione della ruminazione. Perché mi fa capire immediatamente se un animale ha dei problemi oppure no. Quindi intervenire tempestivamente con risparmio di medicinali, spese veterinarie e di riforma di animali. Il sistema ha cambiato il mio modo di allevare gli animali, specialmente per quanto riguarda le manze. Perché essendo a lavorare fuori non le hai sotto occhio sempre, quindi ti scappavano, mi andavano a partorire vicino ai 30 mesi. In questo modo guadagno quei 3-4 mesi, che vuol dire tante cose. Tipo risparmio di alimentazione e avere una vacca in produzione prima che non averla a mangiare lì senza far niente. Avendo montato il sistema 9 mesi fa, abbiamo constatato che adesso ci sono più vacche gravide rispetto a prima. E al momento del parto ci aspettiamo un buon incremento della produzione. Io penso che in un paio d'anni si ripaghi completamente il sistema. Nonostante la mia sia un'azienda piccola, ho avuto dei buoni benefici. Mi immagino una grande azienda, se va in proporzione, che benefici possa avere. Appena ho montato il sistema SmartBo, un po' di diffidenza rimane. Quindi andavo a verificare di persona se quello che mi segnalava il sistema era giusto oppure no. Adesso vado a colpo sicuro perché ho visto che non sbaglia. Adesso si sento molto più tranquillo perché ho un sistema che riesce a farmi ritagliare dei piccoli momenti anche per me e la mia famiglia. Parlando ad un altro allevatore mi vorrebbe di dirgli cosa aspetti a montare SmartBo. Grazie. 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 Grazie.